Il soggetto di un quadro che a volte è ingombrante è perché proprio quella persona là, ecco forse è quello che mi spinge a volte a cancellare i volti ma anche a cancellare altre cose. Possiamo parlare di un volto e tu lo vedi e dici questa è una faccia, oppure possiamo parlare di un volto e tu lo vedi e dici questo qua è Pinco Pallino o è il signor qualcuno. E riconoscerlo appunto nella sua specificità e a me interessa di più quest'ultima cosa.